Come di consueto poco prima dell'inizio della stagione ecco il Media Marketing Day organizzato da Lega Pallavolo Serie A femminile, un momento di incontro tra società ed esperti per discutere di comunicazione e strategie di vendita. In questa edizione l'evento è stato ospitato dal Samsung District, la casa della sede italiana di Samsung. Si parla di marketing vero, ma anche di sport con la replica del presidente di Lega Mauro Fabris alle dichiarazioni del numero uno della federazione Cattaneo in merito ai risultati della nazionale maggiore nel recente europeo e alla limitazione nell'utilizzo di atlete straniere nei campionati di Serie A femminile. Io credo che un'analisi seria sul risultato che la nazionale ha colto, o meglio non colto, agli europei non possa essere ridotto alla questione straniere sì, straniere no. Il fatto che ci abbia battuto l'Olanda e che nell'Olanda giochino tante atlete che giocano il campionato italiano non significa che dobbiamo chiudere le porte, le frontiere per evitare che le ragazze di altri paesi vengano a giocare in Italia. Non ha privo di senso, quindi non è un'analisi così limitata, autarchica, che può risolvere la questione e non è a questo che si può limitare la stessa analisi. L'analisi deve prendere atto che l'Italia ha vinto tanto in campo internazionale quando non c'erano limiti all'utilizzo delle staniere nel campionato italiano. L'analisi deve prendere atto che oggi la nazionale italiana è composta, differentemente da quella che è andata a Rio, da tutte le ragazze che giocano nella Serie A italiana. L'analisi deve prendere atto che, come ha detto un allenatore italiano che nelle ultime quattro edizioni con tre nazionali diverse ha portato la propria squadra, la squadra che allenava, in finale, cioè Guidetti, Guidetti ha detto che il problema dell'Italia non è quello di non avere un patrimonio di atleta, anzi forse il problema è che ne ha troppe di valide e che forse si perde troppo tempo nel selezionarle. Io penso veramente che fare dei discorsi autarchici sia qualcosa di vecchio, con l'autorchia si sa dove si comincia, non si sa dove finisce, non vorrei che arrivassimo a giocare solo tra di noi con un campo chiuso.